E' stato impossibile, impossibile. Non ci siamo riusciti. Dov'è l'equipaggio? Ah, sì, l'ho fatto sbarcare. Eravamo spacciati, niente energia, le batterie fuori uso. Sono rimasto io solo. Per ultimo, il capitano è l'ultimo ad abbandonare la nave. È così che dobbiamo fare, vero? E poi attaccò ancora ed il teletrasporto si guastò.